Grazie a tutti. Grazie, grazie. Sento il colonnello che dice che aveva una carica istituzionale che praticamente era portata a contattare arbitri e assistenti. Meani era un dirigente del Mila, addetto agli arbitri, nel censimento del Mila, pagato dal Mila, il quale Meani era l'uomo che poteva andare nello spogliatore degli arbitri prima, dopo e durante la partita. L'unico dirigente che può entrare è l'addetta all'arbitro, lui era questo e nelle partite casalinghe sedeva pure in panchina con la divisa del Mila. Quindi non è una carica istituzionale che può contattare. Poi un'altra inesantezza, ha detto che contattava soltanto assistenti, altra inesantezza, perché Morganti, Nucini, Massimo De Santi, Seppaparesta, Rodomonti, Racalbuto non sono assistenti, sono arbitri. E poi ci sono tutti gli altri, compreso Copelli, guarda caso, compreso Copelli, il quale poi ce lo troviamo in una partita a Reggio Calabria, ci fa perdere la partita, poi ce lo troviamo ancora a Torino in una Supercoppa, ci fa perdere pure quella. Non l'hanno un gol regolare di 3-6 che è questo, non l'hanno visto. E questo è una cosa spiacevole. Poi per quanto riguarda il dossier che è stato citato di Mazzini, io l'ho già descritto tante volte, è uno che parla molto, ha mandato questo dossier per vedere quello che c'era. Io non ho neppure parlato con le due persone che erano incaricate a dare questo, l'ho mandato dall'avvocato, non le conosco neppure. Dopo due giorni ho detto a Mazzini, guarda questa è carta straccia, vedete queste cose e non ce le vediamo noi. Questo è un altro regolo. Poi per quanto riguarda invece la partita della Fiorentina, è questa una cosa abbastanza grave. Quando il colonnello dice, dopo la sconfitta della Fiorentina in casa, ci siamo incavolati noi per voi, questo è suggestivo. Anche perché quando dice ci siamo incavolati noi, lui non capisce, o meglio fa finta di non capire. Quando incavolati noi? Non ho capito adesso, non capisco io. Dopo la partita Fiorentina-Mila. Chi si è incavolato? Ha detto il colonnello, riassumendo una telefonata, che io avrei detto a Della Valle ci siamo incavolati noi per voi. Sì, esatto. Allora, mentre io mi inca... intanto la partita praticamente è decisiva perché la successiva immediata era Mila-Juventus a Milano. Allora, detto questo, quando mi telefona, perché qui il concatenamento delle cose è abbastanza grave, mi telefona dopo la partita e dopo aver fatto dichiarazioni su giornali il signor Della Valle, il quale mi dice, ha visto come ci hanno trattato, normale amministrazione di un qualcosa di persone che stanno 30 anni nel calcio. Credo che non ci sia niente di strano a ricevere una telefonata di un Presidente, anzi ne ricevevo non una, 10.000. E di questo praticamente posso trarre un vatto perché in pratica vuol dire che le amicizie erano giuste. Allora, quando Della Valle mi chiama e mi dice che è stato bistrattato, che doveva avere due rigori, che non gli sono stati dati, tutto quello... Sa cosa gli dico nella telefonata? E' questo che non ha letto il colonnello. E gli dico, senti, allora invece di fare troppo casotto sui giornali, rivolgeti a chi di competenza. Se avessi potuto fare qualcosa io, gli dicevo rivolgeti a me. No, io gli ho detto rivolgeti a chi di competenza. Noi le leggeremo queste ore. Esatto. Le leggeremo, siamo costretti a leggerle. Il nostro dovere giuridico. Per quanto riguarda poi invece il discorso di Roma-Juventus e la famosa partita che la Juventus ha vinto, come ha detto il colonnello, con due gol, uno in fuorigioco e uno al limite dell'aria, quindi non rigore, ha detto il colonnello. E ha detto che praticamente Ragalbuto aveva impedito, diciamo non impedito, ma comunque aveva dato due gol irregolari. E' una inesattezza, Presidente. Perché chi ha impedito l'arbitro si comporta in una certa maniera e ha due assistenti. Gli assistenti sono quelli che devono dire se c'è il fuorigioco o se praticamente il pallone è fuori dall'aria o dentro l'aria per dare rigore. Quindi Pisa-Creta è l'uomo che sostanzialmente ha fatto fare gol alla Juventus e che dicono loro non regolari. Quindi Ragalbuto non c'entra niente. Per quanto riguarda poi il discorso della Roma e quando si parla del telefonino a Gabriele, qui bisogna stare attenti a quello che si sente dire. Perché? Perché il dottor Carraro, il 4 novembre del 2004, in precedenza della partita, Inter-Juventus, telefona al signor Bergamo e gli dice attenzione, non fare favori alla Juventus. Successivamente ha detto anche della Roma. Ha detto anche della Roma. Quindi la preoccupazione era quella che la Juventus andasse a Roma e magari non succedessero cose irregolari. Per carità, su questo non c'è dubbio. Ma che il discorso di Gabriele venga portato come esempio perché ci fossero delle considerazioni poi durante la partita mi sembra una cosa decisamente inesatta. Anzi, anzi, c'è stata una telefonata, come ha detto il colonnello, tra il primo e il secondo tempo, e non certamente da me, da chi l'ha fatta, da Bergamo, c'è stata una telefonata in cui si dice attento che il primo gol era in fuorigioco, il che vuol significare un condizionamento in negativo per la Juventus e nei confronti dell'arbitro. Quindi era una cosa negativa per noi. Perché quando ci sono le cose devono essere portate nella stessa maniera ma alla fine della partita, non durante, da chi che sia. E questo invece è stata una cosa che ha messo in condizioni l'arbitro evidentemente anche di sbagliare qualcosa, anche se non ha sbagliato niente perché chi ha sbagliato è stato l'assistente. L'ultima cosa, Presidente, questa qua mi preme per far vedere come sono state fatte tutte queste inquisizioni. Allora, prendo come esempio una partita tra quelle che ci siamo, che sono imputate. Allora, la partita è Juventus-Sandoria. In questa partita dice, il colonnello dice l'informativa, che il calciatore Simone Inzaghi, riserva della Sandoria, è stato squalificato nella partita precedente all'incontro Juventus-Sandoria. Quindi nella partita Juventus-Sandoria, che la Juventus ha vinto 1-0, ha vinto perché questo giocatore, Inzaghi, che non giocava mai, non ha giocato per squalifica. Premetto che la partita non è finita 1-0 per la Juventus, ma è finita 0-1, ha vinto la Sandoria. Detto questo, non hanno evidenziato un'altra cosa molto più importante, che alla Sandoria mancava una riserva, alla Juventus mancavano due titolari, mancava Zepinà e Olivera, i quali Olivera la settimana prima aveva segnato addirittura un gol con l'Atalanta. Quindi chi andava male era la Juventus in quel momento lì. Ma non solo, oltre che sbagliare il risultato, non hanno messo in evidenza che in quella partita Juventus-Sandoria è stato ammonito ed era diffidato e quindi non è andato a Palermo a giocare, il giocatore Camoranesi, il miglior giocatore che c'è la Juventus. Mi dica lei chi è stato danneggiato in questa partita. Io, no. Allora, quando si fanno le cose, non si debbano fare per far del male. Bisogna fare le cose... Vabbè, l'accusa tende a portare gli elementi di accusa, la difesa poi si difende, ce ne metti a suo... Presidente... Da questo scontro accusa-difesa vediamo che non ci dà.